si confermatissimo confermatissimo ma forza voglio andremo tra battelle tutto bordello che io mondo smonto carico scarico se non puoi ciò si buona risata t'organizza la giornata c'è un paese di pulizia un telefono ci sono che ha lasciato un nefona a me all'acqua un'arrivo a me oma di una lampadina quanta panza chi ci vuole per accortare tutte le nace quanto io ho nato comune per progettare nuove strade ma la voglia di tu manca tutte le nace aiuterà la fusa a chi non sempre in alto porterà ma si uge di noi mica a carnevale è arrivato il suo telefono i desideri a tutti avvererà e da la cazza ma non volte sempre si attiadirà e con sorriso il suo telefono ci saluterà mica e grande sempre intorno pronti a collaborare un suo obiettivo busacchino migliorare si lo sinaco cercate un telefono aglomato ci ha suonato in tale che si è riunione sciate sciate manco i capiti la fanno una roba di quello curare sempre pronto per aiutare a tutte le ore da giornata l'importante è una cosa non facciate arrabbiare se non sto qua e ti spucciava appunto a stare ma si uge di noi mica a carnevale è arrivato il suo telefono i desideri a tutti avvererà e da la cazza quando non volte sempre si attiadirà e con sorriso il frutti saluterà ma si uge di noi mica a carnevale è arrivato il suo telefono i desideri a tutti avvererà e da la cazza quando non volte sempre si attiadirà e con sorriso il frutti saluterà a me uge di noi mica a carnevale è arrivato il suo telefono i desideri a tutti avvererà e da la cazza quando un volto sempre si attiadirà e con sorriso il frutti saluterà e con sorriso il frutti saluterà e con sorriso il frutti saluterà ho 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 ho